Siamo con l'Avvocato Gina Lupo, Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Taranto. Ci stiamo occupando del Centro della Cultura per l'Infanzia, una realtà sostenuta dal Comune di Taranto. Intanto, Avvocato Lupo, diciamo quando e gli orari, i giorni in cui è aperto, come è strutturata la fruibilità, l'accesso a questo centro. Il Centro per la Cultura dell'Infanzia è aperto, si trova in via Pisa a Taranto, a ridosso della concattedrale per capirci. È sempre aperto tutta la settimana, mattina e pomeriggio. Ci stiamo cercando di tenerlo aperto anche il sabato, a partire dal 2017. Spero di che siano trovate le risorse, perché spesso molti genitori hanno chiesto che il centro venga aperto, non soltanto a livello straordinario, ma proprio di routine, anche il sabato, perché è un giorno in cui spesso i nonni e anche i genitori sono più liberi. Ha diverse attività a seconda dell'età del bambino. Si comincia con un approccio alle fiabe del bambino, che vengono spiegate, insegnate e vengono rappresentate dai bambini stessi, che creano anche i loro primi libri sulla favola più amata, disegnano e creano il loro libro. Più impegnativo è l'intervento per bambini più grandi. Abbiamo creato proprio il campionato di lettura ad altavoce, perché ci sono delle educatrici specializzate nella lettura ad altavoce. Questo serve ad accostare il bambino all'amore per il libro e ai vari generi anche letterari. Guarda Luigi, un intervento, indagine del Dipartimento di Neuroscienza, ha detto chiaramente che leggere un libro è un balsamo per la nostra mente. Leggere un libro, immergersi nella lettura di un libro è un antistress, ci permette di evadere dalla tristezza, dal momento particolare che viviamo, sviluppa la nostra memoria, è come un abbraccio che noi diamo alla nostra mente, ci permette di essere creativi, ci permette di immaginare quello che il narratore descrive. Noi entriamo in un bosco narrato, entriamo nel personaggio, cosa che invece con i moderni sistemi tecnologici non avviene. Lì sono le immagini che vengono da te e ti assorbono, non è il contrario. Quindi noi, io sono fondamentalmente convinta dell'importanza della lettura e quale mezzo migliore a far amare questa lettura ai bambini. Abbiamo fatto un progetto bellissimo dove con la regione, dove abbiamo regalato un libro costruito da alcune mamme a tutti i bambini, in maniera tale che con il libro si possa anche giocare.